Teleportia Soul La tua amica è con te In onda! Ciao Porziani! Benvenuti al Teleportia Show! L'angolo della posta Signora Porzia, seguo sempre i tuoi video Sono interessanti e stimolanti E mi fanno fare Tante domande Oggi ti ho scritto perché pensavo che tutti sembrano sempre pieni di problemi Io sono felice È strano per un umanoide? Risposta Un umanoide crede sempre di essere qualcosa o qualcuno felice tu felice tu se sei felice non abbandonare mai questa credenza L'oroscopo di Porzia Segno zodiacale del giorno Cane 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 non servire e non servire non servire l'aforismo che ora è è l'ora giusta un saluto a tutti gli amici di teleforzia show scrivete mi scrivete mi scrivete ciao 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 teleforzia show la tua amica è con te